Buongiorno a tutti, ma qui siete un numero che fa cinema, ma qui sono divertito, nonostante sia anche il tuo simbolo, ma non si capiscono tutte le cose che scrivono, ma non si capiscono tutto, però il tempo è bene, a questo punto esce venerdì, oggi ne hai pagato, dacci, vuol dire? Oh cazzo no, sono un intervento, sono veramente, non avevo la pena pazzesco, io zitto, e poi mi sembrate sinceri, non credo essere gente, sono di cabello, non è vero come niente, 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 è meglio di scavarsi, che rimanga per noi, lo dico alle donne, non voglio essere, sono veramente, se qui si intende a di nuovo bene, non va a fare la casa, non so su, no, 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 va bene grazie ragazzi, siamo alle casire, grazie, è vero come niente, grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie a tutti